Sentire anche Centinaio su questo perché tra l'altro Centinaio, la Lega e non solo la Lega ha presentato una mozione di sfiducia proprio per il Ministro Poletti. Sì, l'avevamo anticipato proprio ieri che a seguito delle affermazioni del Ministro Poletti avremmo presentato una mozione di sfiducia, ma proprio perché non si può pensare che un Ministro della Repubblica Italiana dica determinate cose. Il lavoro che, anche in base a quello che stava dicendo giustamente Esposito, il lavoro che facciamo e che dovremmo fare noi che siamo eletti o il governo, il parlamentario o il governo, è quello di far sì che gli italiani che vanno all'estero non lo facciano per necessità, ma lo facciano per volontà, lo facciano per scelta, non lo facciano perché non trovano un posto di lavoro. Oggi come oggi noi abbiamo una disoccupazione altissima, abbiamo una disoccupazione giovanile altrettanto alta, non abbiamo immigrazione che arriva da paesi come la Germania, come la Francia o come altri che vengono per trovare posto di lavoro qua. E quindi il nostro lavoro deve essere quello di far sì che ci siano le condizioni nel nostro paese perché gli italiani possano stare qui tranquillamente e scegliere. Non si possono dire, onestamente, non si possono dire determinate cose, non si possono dire certe cose. Ancora di più non lo può dire un Ministro, perché se fosse un parlamentare che lo dice... Gianmarco Centinaio che non è nessuno alla fine, no che è un senatore, vabbè capogruppo... Non si butti giù. Non lo dice un parlamentare qualsiasi, lo dice il Ministro del Lavoro di governo. Noi ripartiamo.